Cuore di cucina e la cottura dei carciofi è un altro alimento un'altra verdura che non sempre ci riesce proprio benissimo cucinare facendo rimanere il cuore tenero così come dovrebbe essere meno male che c'è lui è Fabio Campoli grazie Sonia di questo complimento è la verità ma tocchiamo un altro argomento oggi un vegetale a me caro i carciofi visto che sono laziale e nel Lazio c'è una grande tradizione di carciofi che io ho imparato a dividerla tra quella della tradizione quindi quella di casa e quella dei ristoratori professionisti e ho cercato di imparare sia dall'uno che dall'altro e poi mettendoci del mio ovviamente il prodotto deve essere di qualità qui abbiamo degli ottimi carciofi se poi partiamo dalla base possiamo dare anche qualche consiglio sulla pulizia la pulizia e se ci puoi consigliare troviamo diversi tipi di carciofi e sì noi abbiamo la tradizione del romanesco quindi questo tondo bello sodo possiamo dire che in italia il carciofo nazionale si trova da prima di natale fino alla pasqua la primavera o se no arrivano da altre parti del mondo benissimo ok quindi togliamo tutte le prime foglie queste foglie qui io le vado a togliere delicatamente una una non le strappo mai attenzione a non strapparne troppe perché portatevi al cuore poi una cosa a me è sgradevole quando mangi i carciofi sono i filamenti perché vengono sempre troncati di netto cioè con un taglio netto in orizzontale così che succede che andiamo a rovinare il cuore e ci mangiamo troppo la parte fibrosa esterna invece i cuochi lo sanno che basta prendere un coltellino vedi questa bratta questa foglia la fermo con l'indice o col medio poi con un coltellino faccio questo lavoro giro così si dice tornire a pigna che succede guarda ti faccio vedere adesso quando termino eccolo qua non ho rovinato il cuore è leggermente obliquo e non mi mangia tutta quella parte che poi rimaniamo a masticarla troppo quindi tagliamo per obliquo per obliquo girando si chiama tornito e questo è il modo migliore per conservare anche la parte poi più buona senza tagliarla di netto poi vedi che non ho pelato ancora il gambo lo faccio in ultimo perché altrimenti con la mano tende a farlo diventare nero quindi prima tolgo esterno poi c'è questa parte del cuore così si deve fare delicatamente io ai ragazzi dico sempre questo è il cuore non me lo puoi portare via tutto no cioè così in ultimo anche alle donne lo dici sì c'è chi me l'ha portato via allora così siamo pronti l'ultima fase è quella della pulizia del gambo poi vado sul tagliere torniamo alla nostra cottura possiamo togliere un pochino di gambo se troppo e tagliarlo comunque si controlla al centro se c'è del fieno questa barba questa viene nel periodo più meglio toglierla diciamo che più si alza la temperatura più il fuori tende ad aprire a fare la barba all'interno sì e poi l'ultima fase è quella della conservazione io faccio acqua ghiaccio il limone sì acqua ghiaccio il limone e limone li lascio anche riposare per 8 10 ore in acqua ghiaccio il limone a temperatura ambiente no in frigorifero anche qui il carciofo vale la stessa cosa sopra i 4 gradi 5 gradi tende a scurire passate queste otto ore guardate adesso col coltello trinciante e si fanno affilamenti perché qui non parliamo del carciofo alla romana sai questo movimento sembra facile no non sembra facile così il coltello deve sempre un ruotare venire indietro li tagliamo tutte a fettine uguali io passo adesso questa fase perché li ho già preparati certo e iniziamo a parlare dei consigli che ci occorrono a noi quindi tagliamo i carciofi a lamelle un'operazione che faccio sempre la centrifuga perché prima di questa è una operazione molto importante sonia perché se noi mettiamo troppa acqua in cottura il carciofo non rosola mai allora io ho imparato questo prima operazione centrifuga adesso lo facciamo velocemente perché poi i nostri tempi sono ridotti è piccolissimo inciso per mangiare i carciofi crudi quando li tagliamo questo è lo stesso procedimento grazie che mi fai questa domanda questa è proprio la strada per farsi una buona insalata di carciofi eccola perché quando noi li tagliamo con l'acqua sono sgradevoli invece ben asciutti se adesso vado a mettere il sale qui ho già la strada aperta facile certo metto il sale e già sono la seconda fase vedi che non metto l'olio facciamo perché perché a contatto con l'umidità il sale si scioglie bene l'olio è un po idro repellente quindi prima fase il sale poi che roma usiamo la mentuccia la nepitella no che possiamo metterne un pochino all'interno questi sono buoni quasi da insalata così è proprio un insalata sono buona l'insalata e poi la fase dell'olio adesso per insalato io ne metterei pochissimo e mettere ancora del limone invece a roma sanno che è una delle cose più importanti per la cottura dei carciofi è l'olio perché l'olio li fa diventare croccanti li porta sopra i 100 gradi quindi rimetto un po di più ma una cosa che voglio raccontare che il carciofo non prende tanto olio a differenza degli altri vegetali ha questa caratteristica che non assorbe tanto vado avanti prepara a questo momento una padella calda e qui una cortezetta questa la facciamo vedere si è un perché io ho fatto l'insalata apposta non mi sono messo lì a mettere l'olio a farlo bruciare è molto interessante questo fatto di mettere i carciofi direttamente in padella copriamo con il magic cooker perché sappiamo i vantaggi del vapore che si ottiene quindi poi mettiamo a fiamma alta a fiamma alta sappiamo che il prodotto senza stare lì sempre a girare perché qual è il vizio ogni due secondi girare guardate cosa è successo guardate che bel colore che è biondo ma non bruciato e poi è tenero si si vede che è rimasto tenero bianco tenero con questo ho concluso Sonia grazie Fabio grazie grazie io vi rimando come sempre a visionare anche tutte le altre nostre puntate dove ci sono molti altri consigli su www punto non solo benessere punto tv